Sei al computer davanti ai videogiochi facendo finta di studiare quando tua madre ti chiede... Andrea, sei per caso al computer davanti ai videogiochi facendo finta di studiare? No, no, studia, non faccio altro. Ma in realtà sei al computer davanti ai videogiochi facendo finta di studiare. E' finito i compiti? Dici di sì con la testa, ma l'unica cosa che hai finito è la pizza sul tavolo. Ti avverto, se oggi non studi si mette male. Per evitare guai ti rimetti a studiare quando tua sorella ti dice che ha scaricato da internet il videogioco Maghi e Cavalieri. Ti va di giocare con me? La tua testa dice no, ma il tuo cuore dice di sì. Ho ricevuto un link per scaricarlo gratis, ma non riesco a lanciarlo. Ma tu sei Andrea Navigati e sai che il gioco è una faccenda serissima. Lidia, ma questo è un link a un sito pirata. Potresti aver scaricato un software malevolo. Software malevolo? Ma come parli? Ma sì, un software malevolo. Se scarichi un software da un sito di cui non sei sicura, non sai cosa stai installando. Potrebbe essere un gioco, ma potrebbe fare anche qualcos'altro di non troppo bello al tuo tablet. Tipo cosa? Beh, nel migliore dei casi ti riempi di pubblicità non richieste, ma puoi anche vedere i siti che navighi. Puoi inviare email a tuo nome. O ancora peggio, puoi rubare tutte le password che digiti. Sai cosa accadrà adesso? Che mamma mi mette in punizione? No, a te non accadrà molto. Ma il tuo tablet ha bisogno adesso di una bella pulizia. Povero tablet, e povera me! Tranquilla, Livi. Succede anche ai grandi. Con finti sms e finti email dalla banca. Hanno link a siti uguali agli originali, che saranno a rubare dati personali, bancari, password e così via. Ovviamente questo è un segreto tra me e te. No, sister, meglio avvertire mamma. Ma si arrabbierà con me? Si arrabbierà con me, se non mi rimetto a studiare. Mi farà vedere le stelle e passare le pene dell'inferno. Che cosa stavi dicendo? No, mamma, ho detto a rivedere le stelle e ripassavo l'inferno di Dante. Per ora ti sei salvato solo perché hai dato il consiglio giusto a tua sorella. Per ora. E capisci che se non ti metti a studiare sul serio, per te sarà davvero game over. Se una proposta ti sembra troppo bella per essere vera, come ad esempio giochi online e app gratuiti, fai attenzione perché è probabilmente una truffa. Installa un buon antivirus non solo sul computer, ma anche su smartphone e tablet e mantieni sempre aggiornati i tuoi dispositivi e l'antivirus. Fai periodicamente il backup dei tuoi dati. Non aprire gli allegati di email inviate da ammittenti sconosciuti o falsificati, perché i malware possono essere trasmessi tramite le email che ricevi. Presta attenzione anche alle email ricevute dagli amici. I loro dispositivi potrebbero essere stati infettati a loro insaputa. Fai attenzione durante la navigazione su internet. I malware vengono divulgati anche da siti web infetti, quindi evita quelli rischiosi o non ufficiali. Installa le app solo dagli store ufficiali, avendo cura di verificarne l'autore e la reputazione.